beh cosa posso dire di questa partita 4 a 1 insomma si può perdere con napoli sì però insomma c'è modo e modo di perdere le partite sigla e poi andiamo nuova sconfitta del Cagliari in questo campionato inizia male il 2021 anche perché insomma le ha prese le ha prese non c'è molto a cui fare appello sì si dirà mancavano Godinna, Ingolana, Rogue eccetera eccetera sì Lico Giannis è stato espulso forse nel momento in cui sarebbe servito di più però la squadra insomma oggi è come se avesse aperto un vaso e fossero usciti fuori tutti i difetti già maturati dallo scorso settembre soprattutto i difetti maturati col mercato perché? Perché nel momento in cui la squadra ha bisogno di fare dei cambi non ha dei cambi adeguati perché Tramoni non è un cambio adeguato, perché Tripaldelli non lo è, perché Caligara non lo è insomma la situazione non è buona il mercato invernale inizia domani e quindi insomma qualcosa bisognerà fare in più non basta avere Nengolan e soprattutto bisogna che anche l'allenatore si dia una svegliata perché? Perché Caleri anche stavolta ha buttato un tempo anche stavolta è parso molto pavido, ha corso vuoto, ha fatto un gioco inesistente, un pressing inesistente e quindi la situazione non è delle migliori si è ripartiti esattamente come si era finiti lo scorso anno non basta Cranio che fa il tutto e per tutto e insomma avremmo meritato qualcosa di più diciamo che meritiamo come tifosi e come addetti ai lavori qualcosa di più Di Francesco non ha la squadra ideale per dare qualcosa di più in questo momento se ci mettiamo anche infortuni e vari ed eventuali però insomma bisogna bisogna lavorare questo mese per migliorare la squadra che adesso ha appena tre punti dalla zona retrocessione quindi bisogna stare molto 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 attenti per questa partita vista anche come è andata evito se promossi che i bocciati i bocciati sono tutti a parte Cranio che ha fatto il possibile però insomma sarebbe come sparare sulla croce rossa e purtroppo anzi per fortuna non mi va di farlo quindi vediamo col Benevento come va vediamo come si evolve la situazione magari con l'ingresso anche di Nengolan e speriamo bene Grazie a tutti Grazie a tutti